buon pomeriggio a tutti nel campionato primavera serie a 1 di calcio maschile al turno 18 la lazio grazie a un 1 2 dopo il momentaneo pareggio dell'empoli visto il vantaggio iniziale dei bianco celesti per una zero nel primo tempo mi pare appunto il pareggio dei toscani nella ripresa e poi tra l'ottantatresimo e l'ottantacinquesimo e appunto si sono succeduti due gol che hanno portato al successo i bianco celesti che agganciano la stessa empoli in classifica e la superano per differenza a rete al nono posto con 23 punti l'empoli è decima lazio impegnato nella prossima giornata tra dieci giorni in casa contro la sampdoria empoli in casa del napoli sempre tra dieci giorni allora di nuovo ribadiamo la lazio e sfugna il campo dell'empoli vincendo per 3 a 1 ribadiamo stando sempre in vantaggio solo in un'occasione raggiunta dal pareggio dell'empoli ciao a tutti